Con la pubblicazione online della tesi di Chiara Tavella, contributo alla biografia letteraria di Santore di Santa Rosa, una commedia inedita, vincitrice del premio Gianni Oberto 2012, si dà il via alla serie di testi rilasciati in formato ePub dal Consiglio regionale del Piemonte. ePub, abbreviazione di Electronic Publication, pubblicazione elettronica, è uno standard aperto specifico per la pubblicazione di eBook. In pochi anni dalla sua nascita, l'ePub è divenuto uno dei formati più diffusi nel mondo dell'editoria digitale.